Un ragazzo di 16 anni è finito all'ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento, mentre era in corso la manifestazione per il carnevale. Per fortuna il 16enne non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Ravanusa stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto per comprendere cosa abbia innescato la lite e individuare i protagonisti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe ricevuto una coltellata nel lato destro del torace, subito è stato medicato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì, dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia.